benvenuti in leggenda sbag oggi vi spiegherò come fare la grafica del vostro canale youtube utilizzando canva e utilizzando i modelli png e photoshop in modo tale da evitare problemi di layout con i vari dispositivi andiamo subito a vedere come fare innanzitutto dovrete andare nel link che vi lascerò in descrizione del supporto di youtube dove poter scaricare il modello in png e photoshop ovviamente quello che ci servirà per canva è il classico png anche perché non legge i file psd dovrete una volta fatto il login con facebook o con il login che utilizzate ad esempio google oppure avete fatto un account proprio canva andrete in create a design magari non vi comparirà qua la voce youtube channel art basterà andare sul tasto more e vi mostrerà youtube channel art nella sezione social se non ricordo male quindi andiamo direttamente qua quindi si comparirà la classica finestra di canva con la grandezza già adeguata qua compariranno degli esempi ma sono a pagamento tranne uno che troverete in fondo e potrete iniziare a lavorare sul progetto premessa dovrete inserire prima di tutto il file che avete scaricato da youtube in modo tale da sapere dove mettere il la sezione centrale del vostro della vostra grafica youtube infatti dovrete fare uploads mettere questa immagine qua che avevo già inserito ingrandire al massimo questa immagine che avete scaricato come vedete si adegua perfettamente alla grandezza del nostro del nostro esempio e in pratica in questa sezione qua dovrete fare la vostra grafica qua praticamente è dove viene visualizzato sia su desktop che su mobile ovviamente il massimo del desktop è 2560 per 423 ma la sezione più consone questa qua centrale in cui dovrete iniziare a lavorarci quindi quando voi inizierete a mettere delle immagini ad esempio questa immagine qua andrà sopra il disegno ovviamente no quando avrete finito di fare il disegno qua dovrete semplicemente cancellare queste come vedete vi apparirà solo questo poi potrete modificare lo sfondo andando nella sezione background e decidendo che colore mettere potrete fare ad esempio una cosa così una cosa così o alcuni esempi che sono gratuiti tipo questi e poi potrete cambiare il colore infatti come vedete potete volendo cambiare il colore e la trama sotto rimarrà uguale ma cambierà il colore il colore predefinito altrimenti cliccando sul più potrete decidere un colore più consono tramite la classica girandola dei colori una volta fatto questo e una volta finito il tutto basterà cliccare su download vi chiederà se salvarlo come immagine o come pdf ovviamente dovrete salvarlo come immagine e poi potrete importarlo sul vostro canale youtube una volta fatto il login dovrete andare nella sezione dove vi apparirà il vostro canale youtube vi apparirà una matitina a destra cliccandoci sopra basterà vi chiederà di inserire l'immagine potrete anche ottimizzarla tramite la voce ottimizza grafica e in questo modo poi ovviamente una volta che avrete fatto il disegno capirete se è più centrale o meno e quindi basterà spostarvi un po' e capirete qual è l'opzione ottimale io recentemente ho modificato la mia grafica e infatti è diventata così è molto semplice come disegno ma è efficace infatti volevo essere efficace e immediato insomma come vedete ho messo solamente review tutorial e social leggenda sbag che è il nome del canale video ogni martedì giovedì e sabato alle 13 infatti ora che ho la pianificazione dei video grazie alla partnership con youtube cercherò di essere presenti in questi giorni ovviamente dipenderà un po' dallo studio e d'altro ma tramite la pianificazione il fatto che cerco di pubblicare comunque caricare il massimo dei video in certi giorni in cui ho un po' più di libertà e ho comunque l'opportunità di pianificare i video difficilmente non troverete dei video in questi giorni però può capitare che magari non riesco ad esserci ma in ogni caso magari vi darò qualche comunicazione tramite magari il canale youtube o twitter vedremo un po' in ogni caso i giorni in cui pubblicherò video di prassi saranno il martedì giovedì e sabato alle 13 spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video